devo togliere obbligatoriamente quindi ciao 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 tommy a ghiaccio come la tua società paghiaccio sei un paghiaccio la finta di non sentire quella di cartone è la diciannovesima non è la ventesima ringrazio a pioli ringrazio a pioli ciao ragazzi ciao tommy ringrazio a pioli aspettate aspettate datemi la prima allora io devo ringraziare i due veri protagonisti di questo campionato i due bomber talismano pazzini scusate mister pioli nero azzurro sono loro che hanno provato lo scudetto quest'anno a milano i due bomber senza di loro quest'anno non ce l'avremmo fatta venduti io li ringrazio con tutto il cuore questi due bomber perché senza di loro quest'anno sarebbe stata tosta grazie più renduti sono più renduti allora